Ciao, benvenuto su Statica Facile. In questa lezione applico il metodo diretto per il calcolo delle sollecitazioni ad una trave appoggiata con lo sbalzo a destra. Ma se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un like se la lezione ti sarà stata utile. E come vi dicevo in questa lezione riapplichiamo il metodo diretto per il calcolo delle sollecitazioni scegliendo altre sezioni rispetto a quella di prima e soprattutto redigendo i diagrammi del taglio del momento e dello sforzo normale. E adesso buona lezione! Riconsideriamo quindi lo schema statico della scorsa lezione e individuiamo una sezione K che si trova a 6 metri dall'origine del sistema di riferimento che è posto nella cerniera a sinistra. Riportiamo inoltre le distanze significative della sezione K ai fini del calcolo delle caratteristiche della sollecitazione sforzo normale taglio in momento flettente. Cominciamo a calcolare lo sforzo normale NK considerando le forze a monte della sezione K o a sinistra. L'unica forza ortogonale alla sezione K che riscontriamo è la reazione vincolare RAX del valore di 13,524 kN. Come vedete questa forza entra nella sezione K dunque è uno sforzo di compressione e allora avrà il segno meno quindi NK sarà uguale a meno 13,524 kN. Se facessimo il ragionamento considerando le forze a valle della sezione K ovvero a destra troveremmo che l'unica forza ortogonale alla sezione K è il carico PX del valore di 13,524 kN. Questa forza entra nella sezione K dunque è da considerarsi compressione e quindi col segno negativo. Come vedete arriviamo nello stesso risultato NK uguale a meno 13,524 kN. Passiamo adesso al calcolo del taglio TK considerando le forze che siano parallele alla sezione K a destra o a valle della sezione K stessa. Questa scelta ci conviene perché così evitiamo di calcolare la risultante del carico Q distribuito. La convenzione positiva del taglio è quella che vedete in figura. Partendo da destra la prima forza che incontriamo è PY. Il suo verso è coerente con il verso positivo del taglio per cui avremo TK più 29,002 kN. Procedendo verso la sezione K la seconda ed ultima forza che incontriamo che sia parallela alla sezione K è la reazione vincolare RBY del valore di 67,43 kN. Questa forza non è coerente col verso positivo del taglio e quindi avrà il segno meno. Avremo TK uguale a più 29,002 meno 67,43 uguale ancora a meno 38,43 kN. Ora passiamo al calcolo di MK, momento flettente nella sezione K. La convenzione positiva del segno è quella in figura, considerando le forze a destra della sezione K o a valle della sezione K. Lo facciamo perché sono meno di quelle a monte. Infatti a monte ne abbiamo tre che sono RAY, Q ed M. RX non partecipa al momento perché passa per il baricentro di K, quindi non ha braccio e allora produce momento nullo. Invece a destra ne abbiamo solo due che sono PY ed RBY. PX non produce alcun momento rispetto a K perché passa per il suo baricentro. Computiamo adesso il momento. La forza PY del valore di 29,002 kN evidenzia un braccio di 4 metri rispetto a K. Il momento che produce risulta orario, in altre parole tende le fibre superiori, considerata da un altro punto di vista produce una rotazione contraria rispetto alla convenzione positiva di MK, quindi avrà segno negativo e allora avremo MK uguale a meno 29,002 per 4. Consideriamo adesso il contributo di RBY del valore di 67,43 KN. Il braccio rispetto alla sezione K è di un metro. Il segno, con gli stessi ragionamenti di prima, è sicuramente positivo perché tende le fibre inferiori, quindi aggiungiamo a MK più 67,43 per 1. Alla fine avremo MK uguale a meno 48,58 KN per metro. E qui si conclude il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione N, T ed M in una generica sezione K. Adesso dobbiamo pensare alla redazione dei diagrammi delle sollecitazioni N, T ed M. E siccome il metodo diretto prevede il calcolo delle sollecitazioni in singole sezioni, dobbiamo selezionare delle sezioni significative nelle quali calcolare le sollecitazioni e successivamente dedurre l'andamento dei diagrammi tra queste sezioni significative. Definiamo le sezioni significative con riferimento proprio al nostro schema che useremo come esempio. Valuteremo allora le sollecitazioni nelle sezioni di inizio e fine trave, nel nostro caso A ed E, nelle sezioni di inizio e fine carichi distribuiti, nel nostro caso A e B, nelle sezioni sedi di forze e o momenti concentrati, nel nostro caso C ed E, e per finire nelle sezioni sedi di vincoli esterni e o interni, nel nostro caso A ed D, perché in A c'è una cerniera e in D c'è un carrello, il che comporta la presenza di forze concentrate e quindi rientriamo nel caso numero 3. Tracciamo adesso i diagrammi delle sollecitazioni iniziando da quello dello sforzo normale. Predisponiamo le direttrici corrispondenti alle sezioni caratteristiche e poi tracciamo la fondamentale. Osserviamo che applicando la definizione di sforzo normale a qualunque sezione della trave e comprese le sezioni caratteristiche, il valore che troveremo sarà sempre quello di meno 13,524 kN, corrispondente ad una compressione. Questo perché le uniche forze perpendicolari alle sezioni e parallele all'asse della trave sono la forza attiva Px e la reazione vincolare RAx, che hanno valori uguali e opposti, appunto pari a 13,524 kN. In tutte le sezioni quindi il valore di nk si ripete costantemente uguale a meno 13,524 kN. E allora a questo punto possiamo tracciare il diagramma dello sforzo normale che risulta costituito appunto da una retta orizzontale. Il diagramma è realizzato al di sotto della fondamentale perché negativo, quindi evidenziamo il segno meno e prepariamoci per redigere il diagramma del taglio. Per farlo calcoliamo il taglio applicando la definizione nelle sezioni caratteristiche A, B, C, D ed E. Ricordiamo che le forze che partecipano alla composizione del taglio sono parallele alla sezione e ortogonali all'asse della trave. La convenzione positiva del taglio è quella in figura. Consideriamo la sezione A. A sinistra, a monte della sezione A, non ci sono forze. Però sulla sezione A insiste la reazione vincolare Ray pari a 61,57 kN. Questo comporta un salto, una discontinuità iniziale positiva perché la forza Ray è coerente con la convenzione positiva del taglio. E allora il taglio in A vale 61,57 kN e quindi tracciamo la discontinuità positiva nella sezione A in opportuna scala. Il taglio T con B nella sezione B sarà computato attraverso le forze a monte della sezione B, forze parallele alla sezione B ortogonali all'asse. Le forze in gioco sono Ray per un valore di 61,57 kN con verso positivo e la risultante del carico Q con verso negativo, risultante del carico Q per un valore di 25 per 4 kN, ovvero 100 kN. A conti fatti il taglio T con B sarà pari a meno 38,43 kN che riportiamo sulla corrispondente linea del diagramma del taglio. Nella sezione C il taglio T con C ha esattamente lo stesso valore della sezione B e cioè meno 38,43 kN perché le forze parallele alla sezione a monte della sezione C sono sempre Ray e la risultante del carico distribuito Q. Quindi riportiamo chi con C uguale a meno 38,43 kN. Nella sezione D insiste la reazione vincolare RBY, quindi D è sede di una forza concentrata e allora ci aspettiamo una discontinuità, cioè un salto nel diagramma del taglio. In questa fase dovremo calcolare il taglio sulla faccia sinistra della sezione D e il taglio sulla faccia destra della sezione D, proprio perché c'è la discontinuità. Questa volta conviene considerare le forze a valle della sezione D, le forze a destra della sezione D. E allora le forze che concorrono al taglio sulla faccia sinistra della sezione D, TD sinistra, saranno la reazione RBY considerata col segno negativo coerentemente con la convenzione del segno del taglio, quindi negativa, e la forza PY del valore di 29,002 kN con segno positivo sempre coerentemente alla convenzione del segno del taglio. Alla fine avremo T con D a sinistra pari a meno 38,43 kN. Applicando lo stesso ragionamento calcoliamo TD destro, ovvero il taglio sulla faccia destra della sezione D e vediamo che l'unica forza che concorre a questo calcolo è il carico PY, che essendo rivolto verso il basso dà un contributo positivo per la convenzione del taglio, quindi TC destro uguale a più 29,002 kN. Adesso riportiamo i due valori sul diagramma, prima T con D sinistro e poi T con D destro. L'ultima sezione da esaminare è la sezione E. In essa insiste il carico PY che già conosciamo e quindi ci aspettiamo una discontinuità del taglio. Come è evidente, a valle della sezione E non ci sono forze, quindi il taglio vale 0 e allora la discontinuità dovrà far passare il valore del taglio da 29,002 a 0. Come abbiamo fatto per la sezione D, quindi consideriamo il valore TE a sinistra, che è PY, e il valore TE a destra, che è 0. Non ci resta che riportare la discontinuità sul diagramma e scrivere che il taglio in E è proprio più 29,002 kN, che poi è l'operazione che abbiamo già fatto nella sezione A. Una volta valutato il taglio nelle sezioni caratteristiche, possiamo passare al tracciamento del diagramma tenendo conto delle regole imposte dalla teoria. E allora nel primo tronco di trave AB interessato da un carico distribuito uniforme, il taglio dovrà avere un andamento lineare. Pertanto, conoscendo i due valori estremi, l'andamento del diagramma non potrà essere che quello rappresentato in figura con un tratto diretta. Nei tratti BC e CD il valore si ripete costantemente pari a meno 38,43 kN. È evidente che in questi due tratti il diagramma avrà andamento lineare costante. E questo si spiega perché non c'è carico distribuito. Quindi quando non c'è carico distribuito, il diagramma del taglio è lineare costante. Per gli stessi motivi, anche nel tratto finale DE, il diagramma sarà costantemente pari a più 29,002. Quindi anche qui andamento lineare costante perché carico distribuito nullo. Adesso riformuliamo la grafica in modo più accurato e andiamo a calcolare l'ascissa x0 alla quale il diagramma del taglio ha valore nullo. Questo calcolo è importante perché dove il taglio è nullo, il momento flettente è massimo. Per effettuare il calcolo basta osservare che questo primo triangolo è simile a questo secondo triangolo. Quindi basterà impostare la seguente proporzione. x0 sta a 4 metri come 61,57 kN sta a 61,57 kN più 38,43 kN. Da cui x0 uguale a 2,46 metri. Non sfugga il fatto che queste regolette pratiche appena enunciate, cioè che quando c'è carico distribuito uniforme il diagramma del taglio è lineare e che quando non c'è il carico distribuito il diagramma del taglio è lineare e costante, e anche che dove il taglio è nullo il momento ha un punto di massimo, ebbene queste osservazioni derivano dall'applicazione delle equazioni indefinite di equilibrio, di cui vi lascio il link in descrizione. Passiamo adesso al tracciamento del diagramma del momento flettente. Utilizzeremo la stessa metodologia usata per il taglio, ovvero calcoleremo il momento nelle sezioni caratteristiche A, B, C, D ed E. Ricordo che c'è anche la sezione K dove il taglio è nullo e il momento presenterà un punto di massimo. Poi tratto per tratto tracceremo il diagramma del momento flettente. In via preliminare osserviamo che la forza esterna Px orizzontale applicata nella sezione E e la reazione vincolare RAx orizzontale applicata alla sezione A non partecipano mai alla formazione dei vari momenti flettenti, per il semplice motivo che la loro retta d'azione passa per il baricentro di tutte le sezioni della trave, quindi anche per il baricentro delle sezioni caratteristiche. Quindi il loro momento rispetto al baricentro di queste sezioni è sempre nullo essendo nullo il braccio, quindi non le considereremo nel conto dei momenti. Nella sezione A il momento flettente è zero perché c'è una cerniera e perché non sono applicati i momenti concentrati. Computiamo il momento nella sezione K MK tenendo presenti le forze a monte di K, cioè a sinistra di K, che sono l'aliquota del carico distribuito Q estesa ai 2,46 m che separano la sezione K dalla sezione A iniziale e dalla reazione vincolare RAY del valore 61,57 kN. Quindi avremo che MK è uguale a RAY di 61,57 kN per il suo braccio rispetto a K che è 2,46 m. Questo contributo al momento MK è positivo secondo la convenzione del segno del momento, infatti tende le fibre inferiori della trave. Il secondo contributo al momento MK è dato dalla risultante della parte di carico distribuito che precede la sezione K. Questa risultante è pari a 25 kN per 2,46 m di estensione. Il braccio di questa risultante rispetto alla sezione K è dato da 2,46 mezzi. Il segno sarà negativo secondo la convenzione del segno del momento perché sarebbero tese le fibre superiori della trave. A conti fatti avremo MK uguale a più 75,82 kN per metro che sappiamo già essere il momento massimo positivo. Applicando lo stesso ragionamento calcoliamo il momento nella sezione B, sezione di fine carico distribuito. Consideriamo le forze a monte della sezione B. avremo il contributo di R a Y pari a 61,57 kN per un braccio di 4 metri, contributo positivo perché risultano tese le fibre inferiori. Avremo anche il contributo del risultante del carico distribuito pari a 25 per 4 kN per un braccio di 4 mezzi. Il segno è negativo perché risultano tese le fibre superiori. A conti fatti il momento in B, MB risulterà pari a più 46,28 kN per metro. Nella sezione C agisce il momento concentrato M pari a 18 kN per metro e allora ci aspettiamo una discontinuità pari proprio a 18 kN per metro. E allora dobbiamo calcolare il momento flettente sulla faccia a sinistra della sezione C e il momento flettente sulla faccia a destra della sezione C. Considerando le forze che precedono la sezione, il momento MC a sinistra sarà costituito dal contributo della reazione vincolare R a Y di 61,57 kN per un braccio di 5 metri, contributo positivo perché tese le fibre inferiori. Il secondo contributo viene dato dalla risultante del carico Q di 25 kN su metro per un totale di 100 kN e un braccio di 3 metri. Il segno sarà negativo perché saranno tese le fibre superiori. A conti fatti avremo più 7,85 kN per metro. Per calcolare il momento MC a destra della sezione C utilizzeremo le forze che seguono la sezione C. Il primo contributo a MC a destra è dato dalla reazione vincolare R by per un valore di 67,43 kN per un braccio di 2 metri. Il segno è positivo perché tende le fibre inferiori. Il secondo e ultimo contributo è dato dal carico esterno concentrato PY per un valore di 29,002 kN. Il braccio è di 5 metri e il segno sarà negativo perché saranno tese le fibre superiori. MC destro sarà pari a meno 10,15 kN per metro. L'ultimo momento da valutare è quello nella sezione D, cioè quella corrispondente al carrello. Osservando le forze che seguono la sezione D avremo che l'unica forza presente è PY per un valore di 29,002 kN per un braccio di 3 metri rispetto a D. MD avrà segno negativo perché saranno tese le fibre superiori e avrà un valore di meno 87,006 kN per metro. Il momento nella sezione E, ME sarà nullo perché è un estremo libero e non vi è alcun momento concentrato. Nella tabella riepilogativa qui a destra è stato riportato il valore di MD pari a meno 87,01 piuttosto che il valore di meno 87,006 che avevamo trovato facendo i calcoli. È sicuramente un'approssimazione molto accettabile. Adesso passiamo al tracciamento del diagramma del momento flettente. Prima operazione riportiamo in opportuna scala i valori dei momenti in corrispondenza delle varie sezioni. Nella sezione X uguale a 0 nella sezione A avremo il valore 0. Nella sezione K per una scissa di 2,46 metri avremo più 75,82 kN per metro. Nella sezione B con una scissa 4 metri avremo più 46,28 kN per metro. Nella sezione C sul lato sinistro avremo più 7,85 kN per metro. Invece sulla faccia destra MC a destra avremo meno 10,15 kN per metro. L'ascissa della sezione C è di 5 metri. Nella sezione D ad una scissa di 7 metri avremo il valore di meno 87,01 kN per metro. Nella sezione E il momento è nullo perché si tratta di un estremo libero e non ci sono neppure momenti concentrati. A questo punto passiamo alla stesura del diagramma del momento. Iniziamo dai tratti EDCB. In questi tratti non c'è carico distribuito, quindi il diagramma del momento sarà lineare, cioè rappresentato da un tratto diretta. Basterà congiungere con un tratto diretta i valori del momento alle estremità dei vari tratti. Questa circostanza di diagramma del momento lineare in corrispondenza di tratti di trave con carico distribuito nullo deriva dall'applicazione delle equazioni indefinite di equilibrio, di cui vi posto le lezioni in descrizione. Sempre in dipendenza dall'equazione indefinite di equilibrio, nel tratto AB il momento ha un andamento parabolico. Per tracciarlo dovremo servirci del metodo per inviluppo di tangenti e allora ci servono le due tangenti estreme al tratto parabolico AB. Però, come sapete dallo studio delle equazioni indefinite di equilibrio che vi posto in descrizione, queste tangenti sono note. Infatti la derivata del momento in dx in ogni punto del diagramma del momento è la tangente allo stesso diagramma e questo corrisponde al valore del taglio. Insomma, il valore del taglio a una determinata ascissa è il coefficiente angolare della tangente al diagramma del momento proprio in corrispondenza di quella ascissa. Vi ricordo quindi che per x uguale a 0 in A il taglio vale più 61,57, mentre invece in B, all'ascissa x uguale a 4, il taglio vale meno 38,43, il che ci porta a concludere che la tangente al diagramma del momento in x uguale a 0 si può esprimere come y uguale a 61,57x, mentre all'ascissa x uguale a 4 la tangente al diagramma del momento flettente si può esprimere come y uguale a meno 38,43x più 200. Questo dopo aver applicato alcuni passaggi matematici già spiegati nelle lezioni precedenti. Osservando questa seconda equazione diretta tangente y uguale a meno 38,43 per x più 200 e calcolandola per x uguale a 4 metri e x uguale a 5 metri, cioè in corrispondenza delle sezioni B e C, troviamo che y vale in B più 46,28 e in C più 7,85, il che ci porta a concludere che questa tangente è diretta esattamente come il tratto del diagramma del momento compreso tra le sezioni B e C, quindi sarà un prolungamento di questo stesso tratto. Adesso andiamo a scoprire in quale punto del piano x y si intersecano le due rette y uguale a 61,57x e y uguale a meno 38,43x più 200. Per fare questo mettiamo a sistema le due equazioni e risolviamo rispetto ad x e y. In questo modo ne troviamo il punto di intersezione che si trova alle coordinate x uguale 2 e y uguale 123,14. Per localizzare il punto osserviamo che l'ascissa più 2 corrisponde con la metà del carico distribuito che si estende per 4 metri, quindi partendo dalla metà del carico distribuito tracciamo una verticale alla fondamentale del momento flettente che abbia lunghezza di 123,14 nella scala del momento flettente. La tangente y uguale a più 61,57x passerà dal punto 00 ma anche dal punto x più 2 y più 123,14, quindi la possiamo tracciare. Adesso andiamo a capire chi è questo 123,14 e che significato ha. Evidenziamo la sezione S a 2 metri dall'origine e calcoliamo il momento flettente in S adottando la definizione. Quindi avremo ms uguale a più 61,57 che è la reazione vincolare Ry per un braccio di 2 metri, segno positivo perché sono tese le fibre inferiori, e avremo il contributo della parte di carico che precede S che è pari a 25 x 2 come risultante per un braccio di un metro. Questo contributo sarà negativo perché tende le fibre superiori. Alla fine avremo ms uguale a più 73,14 kN per metro. Aggiungiamo che se consideriamo una trave di lunghezza 4 metri caricata col carico distribuito come succede su AB, il suo momento in mezzeria sarebbe pari a quelle quadro ottavi. Nel nostro caso avremmo 25 x 4 al quadrato diviso 8 uguale a 50 kN per metro. E questo ci porta alla prima conclusione, cioè che il valore di 123,14 si può ottenere come somma del valore del momento ms più 73,14 aumentato di 50 kN per metro che è il valore del momento in mezzeria di una trave appoggiata e appoggiata con carico distribuito lunga 4 metri. E allora il punto di intersezione tra le due tangenti estreme del diagramma del momento flettente tra A e B si sarebbe potuto ottenere con un semplicissimo metodo grafico così organizzato. Partendo dalla mezzeria del segmento AB e nella stessa scala del diagramma del momento flettente tracciamo un segmento verticale di lunghezza 73,14 cioè ms che è il momento a 2 metri dalla cerniera. Successivamente allunghiamo questo segmento di 50 unità che è il valore del momento in mezzeria per la trave appoggiata con carico distribuito che vedete in figura che vale quelle quadro ottavi. Il segmento così ottenuto ha lunghezza 123,14 e per la sua estremità inferiore passeranno le due tangenti all'estremità del diagramma del momento. Osserviamo ancora che se avessimo una trave di lunghezza L uguale a 4 metri caricata con un carico concentrato in mezzeria di valore Q per L giusto alla risultante del carico distribuito da AB nella mezzeria di questa trave avremmo un momento pari a quelle quadro quarti. Nel nostro caso avremmo 25 per 4 al quadrato diviso 4 per un totale di 100 kN per metro. E allora il segmento da 123,14 unità può essere ottenuto come la somma di 23,14 che è la metà del momento flettente in B della trave originaria aumentato di quelle quadro quarti pari a 100 kN per metro. E questo ci porta a un semplicissimo secondo metodo grafico per localizzare il punto di intersezione delle due tangenti d'estremità al diagramma del momento. Tracciamo un segmento che unisca il valore di momento 0 all'ascissa 0 col valore di momento di più 46,28 all'ascissa 4. Il segmento che unisce il punto d'ascissa 2 della fondamentale e la mezzeria del segmento appena tracciato vale esattamente 23,14 cioè la metà di 46,28 che è il momento in B e questo per una similitudine di triangoli che è evidente. Prolungando questo segmento di 100 unità corrispondenti a quelle quadro quarti otteniamo il punto di intersezione delle due tangenti di estremità al diagramma parabolico del momento nel tratto AB. Il terzo e ultimo metodo grafico per il tracciamento di queste due tangenti è il più semplice. A partire dal punto della fondamentale con ascissa pari alla metà dell'estensione del carico distribuito, nel nostro caso due metri, si traccia un segmento di lunghezza qualsiasi. La tangente al diagramma del momento a destra, cioè in B, è nota e intersecherà il segmento appena tracciato in un punto. La tangente di sinistra dovrà passare anche per questo punto. Questo significa che abbiamo le due tangenti di estremità e quindi possiamo applicare il metodo per inviluppo di tangenti per il tracciamento della parte parabolica del diagramma del momento. Vi lascio in descrizione la lezione sull'applicazione del metodo di inviluppo di tangenti. E questo è il diagramma del momento in tutto il suo splendore. Questo è il riepilogo generale. E anche questa è fatta. Spero che la lezione ti sia stata utile, però prima di andartene ricordati di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di lasciare il tuo like di supporto al canale. Ci vediamo alla prossima lezione. Buon studio!